Present Perfect Continuous Il Present Perfect Continuous pone quindi molta enfasi sulla durata dell'azione, infatti si accompagna spesso ad espressioni temporali che rispondono alla domanda How long? Quali? All day, 4 years, 4 ages, since yesterday, since I was a child, e così via. Mike has been reading his book for hours.